Continuiamo a parlare dei vini della regione, lo facciamo con Luigi Di Lauro e con l'Alsia, vediamo. L'ultima doc che ha ottenuto in ordine di tempo la regione Basilicata è quella del Grottino di Roccanova, un vino con una storia importante di cui parliamo con Egidio De Stefano. Sì, i produttori di Grottino di Roccanova doc sono riusciti negli anni, anche attraverso il passaggio dall'Egitti prima fino ad arrivare alla Doc ad ottenere questo vino in effetti che esprime il meglio di quello che è il terroir, cioè l'interazione tra il vitigno, il terreno, il microclima e la tecnica culturale. Che tipo di vitigno si utilizza per il Grottino? Il Grottino di Roccanova non è un vino monovitigno, ma bensì è costituito da un uvaggio formato da Sangiovese, Cabernet, Monte Pulciano e Malvasia Nera. I sentori e l'aroma di questo vino ci porta a quelle che sono poi queste caratteristiche di queste uve sostanzialmente, per cui troviamo questa tannicità che è apportata dal Sangiovese e dal Monte Pulciano, troviamo questa nota di viola, del viola mammola del Sangiovese e poi troviamo questa armonia apportata dalla Malvasia Nera. Vino che viene prodotto sia rosso che bianco? Sì, le tipologie sono rosso e bianco e rosè, in più troviamo vini giovani, quindi da bere durante l'anno, come il bianco e il punto e il rosato, ma anche vini da invecciamento, come alcune etichette di rosso. E noi per questa mattina vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Buona giornata.